Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Dario Bagatin che mi chiede di parlare del film di David Gordon Green del 2013 con Tan Sheridan e un ottimo Nicolas Cage, Joe. Joe prima che questo ieri riuscisse ad andare a distruggere contro i suoi tre Halloween il mito di Michael Myers bisogna dire che saprà dirigere abbastanza bene i drammi di questo tipo con noir in un certo senso. La storia è quella di Gary, sto ragazzino 15 Chen che vive con un padre che si chiama Wade che è un fanulone, non fa un cazzo, picchia la madre e sono costretti sempre a cambiare del presente zona proprio per i problemi che dà il padre. Arrivano in Texas e riescono a farsi assumere da questo Joe interpretato appunto da Nicolas Cage che è in realtà un ex detenuto fortemente attaccato a servizi come il fumo e l'alcol che però insomma è in realtà sotto sotto dà sempre aiuto a chi ne ha bisogno in un certo senso quindi assume entrambi proprio per venerare gli alberi deboli che devono essere buttati giù dalla foresta per facilitare il lavoro insomma dei boscaioli Gary entra molto bene in contatto con Joe, iniziano ad avere un rapporto di amicizia abbastanza forte proprio perché insomma il nostro Gary in Joe rivede quel rapporto paterno che non ha col suo padre che va sempre peggio fino a farsi licenziare entrambi poi però il nostro Joe scopre che merda è appunto il babbo di Gary quindi riassume il nostro Joe e poi di lì tutto quello che succederà perché il padre appunto dello nostro Gary butta sempre di fuori, diventa sempre più violento, vuole far prostituire la figliola insomma un casino enorme finché non ci sarà una ricerca di vendetta da parte del figlio e appunto di Joe che dovrà in un certo senso anche vendicarsi di un vecchio rivale che ogni volta ne vuol tirare fuori il lato collerico diciamo così quindi è una storia di crescita, è una storia di umanità in un certo senso e il Joe che ritrova nel giovane Gary una specie di figlio e il contrario è veramente ben scritta in quel senso, la direzione è discreta per un film che ogni tanto si accascia su se stesso in effetti che non riesce a convincere al 100% però che ha bisogna dire subito negli attori veramente una grande forza e questa volta Nicolas Cage riesce a sfondare un film serio dove la sua essere sopra le righe colleri con quella barba bianca vestita a boscaiolo riesce veramente ad essere interessante con questo personaggio ambicuo, fortunatamente con dentro dicotomia bene male che non è così spostata molto cattivo e arrogante con gli stronzi invece è dolcissimo la gente che ha bisogno un personaggio veramente bomba così come è bellissimo il personaggio di Gary che ha una ricerca interiore niente male il problema rimane nella superficie, cioè questi argomenti sono trattati abbastanza bene però è un discreto film, si guarda volentieri ma secondo me manca il colpo di coda vero a livello di cineggiatura per lasciarci completamente aperto con un finale un po' retorico che riporta un po' diciamo al sogno ogni americano ha la possibilità di redenzione in un'America però che insomma viene descritta quasi come un feudo senza legge in un certo senso nonostante ci sia il poliziotto buono, il poliziotto cattivo poi sta a voi scoprire insomma la storia di un noir alla fine drammatico, il film comunque è discreto, si guarda molto volentieri se siete fan di Nicolas Cage, è una delle sue migliori interpretazioni degli anni 2000 quindi assolutamente da vedere perché è veramente molto bravo così come è bella la fotografia, è un ottimo il montaggio, sono belle le musiche ripeto tecnicamente il film è molto ben fatto, gli attori sono molto bravi è la sceneggiatura che sembra a un certo punto non sapere che strada prendere vuole dare un colpo alla botta e un colpo al ferro alla fine si risulta il fatto che nessuna delle due colpi sono veramente soddisfacenti secondo me quindi alla fine è un film che si guarda molto volentieri per chi ama Nicolas Cage come me perché io comunque quando fa H mi ci diverto perché è completamente fuori di testa il personaggio è la persona e insomma è qui riesce a tirar fuori un'altra volta il Nicolas Cage che conoscevo io ovvero quello che era bravissimo quello di Peggy Sussi è sposata, quello dei film di Coppola, quello di Stress da Vampiro quello di Cuore Selvaggia, insomma quello di Arizona Junior che sicuramente qui non è a quei livelli probabilmente ma ritira fuori uno spirito proprio recitativo che mancava da un po' e che dona al film in realtà l'aura di cult che ha attorno perché se non c'era Nicolas Cage se no secondo me questo non se non culava nessuno link qua sotto, donate su Patreon, iscrivetevi al canale qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su Youtube seguitemi su Facebook e su Instagram insomma e questo film come ho detto è interessante se amate un certo tipo di noir, amate un certo tipo di dramma anche familiare vedete come si sviluppano tutti i rapporti in maniera anche ottimale ripeto se non fosse per qualche caduta di tono che rende il film assolutamente non così ottimo ma se solo si può dire un discreto buon film che comunque sicuramente in due o tre scene lascia il segno come ho detto soprattutto per l'incredibile recitazione dei due protagonisti ovvero Nicolas Cage e il giovane Tyne Sheridan quindi a voi la scelta, il link è qua sotto e quindi a voi la scelta, il link è qui sotto